E' stata assegnata a Giulia Veltri, ricercatrice dell'AIRC presso la Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, la borsa di studio in memoria di Iole Santelli, prima donna presidente della Regione Calabria, venuta a mancare prematuramente il 15 ottobre 2020. Mi permetterà di andare a caratterizzare quei pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta di tipo T, pediatrici, quindi parliamo di bambini. Nello specifico noi andremo a caratterizzare quei pazienti che non rispondono alle convenzionali chemioterapie, che quindi purtroppo non riescono a raggiungere la completa remissione. L'iniziativa è della Fondazione Iole Santelli in collaborazione con l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. E' una borsa di studio congiunta che viene fatta appunto cofinanziata da AIRC e da Fondazione e dell'Associazione Santelli ed è una ragazza giovanissima sulla quale noi puntiamo molto. Noi abbiamo finanziato oltre 120 ricercatori in Calabria. AIRC ha finanziato oltre 26 milioni di euro, cifre importanti che hanno fatto crescere molto i giovani calabresi nell'ambito della ricerca oncologica. Presenti le sorelle di Iole Santelli, Paola e Roberta. Proprio oggi io credo che sia giusto ricordare tutte le persone che con forza e dignità affrontano questa battaglia un pensiero, consentitemelo, Vaiole che ha lottato forse la battaglia più importante della sua vita con grande resilienza e con grande dignità. E' molto importante per la nostra associazione, così come lo era per Iole, far tornare i talenti che sono bravi e che eccellano fuori dalla nostra regione e proprio nella nostra regione. E lo scopo di questa borsa di studio assegnata a Giulia è proprio questo, cioè dare la possibilità di eccellere in un istituto e in un'università importante per poi tornare qui in Calabria. Questo ha delle ricadute estremamente importanti perché investire in ricerca significa avere dei prodotti materiali e immateriali, prodotti scientifici che ci possono aiutare la comunità ad andare avanti, ma abbiamo anche dei valori materiali che possono avere delle ricadute estremamente importanti sulla società e naturalmente sulla credibilità di un sistema sanitario.